Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Una terribile notizia ha colpito il mondo della musica italiana. Marco Ochetti, noto con il nome d'arte, Kim, e voce iconica dei cugini di campagna, ci ha lasciato all'età di 62 anni il 22 aprile scorso. L'annuncio della sua scomparsa è stato confermato dalla figlia Giulia attraverso un toccante post sul profilo Facebook ufficiale dell'artista. Papà è venuto a mancare. Ha scritto con mossa. Ringraziando i fan per il sostegno ricevuto. I cugini di campagna. Celebre gruppo pop italiano fondato nel lontano 1970 a Roma, avevano visto in Kim la loro voce per otto anni, dal 1986 al 1994. La sua perdita ha scosso i seguaci storici della band, lasciando un vuoto nel cuore di chi ha amato la loro musica per decenni. Nonostante l'annuncio della morte, le cause del decesso non sono state divulgate. Il mondo della musica piange la perdita di un talento straordinario. I fan si uniscono al dolore della famiglia Occhetti. Ricordando Kim non solo come un cantante eccezionale ma anche come un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica italiana. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.